Da un giorno all'altro, alle sei e mezzo di mattina, vedersi portare via non è facile, poi con brutti modi anche. Erano stati accusati ingiustamente uno per stupro di gruppo, l'altro per stalking, ma era tutta una grande bugia. Adesso così i due giovani erettini chiedono i danni allo Stato. Tutto era iniziato nel 2015, quando una ragazza denunciò di essere stata violentata alla stazione di Ponticino dall'ex fidanzatino e dal suo amico. Per i due così scattarono le manette, trascorsero mesi di misure cautelari. La ragazza poi indicò anche altri otto giovani come autori di gravissime persecuzioni, con messaggi minacciosi sul cellulare. A distanza di tempo però si è scoperto che tutto era stato inventato di sana pianta dalla giovane a smentirla, gli accertamenti sul cellulare, sui tabulati e i riscontri che dimostrarono la mancata presenza nel luogo del presunto stupro. La giovane addirittura aveva utilizzato un'app per generare messaggi con gravissime minacce che sembravano essere partiti dai cellulari dei ragazzi. Perizia che in maniera tombale ha accertato come in realtà la persona offesa abbia falsificato in toto attraverso applicazioni internet e quant'altro i messaggi che le sarebbero arrivati. La giovane è stata poi denunciata per calugna, non è stata condannata perché ritenuta non in grado di intendere volere. La vicenda giudiziaria si è conclusa con proscioglimenti e assoluzioni e adesso per i ragazzi è arrivato il momento dei risarcimenti. Uno ha già ottenuto 18 mila euro, per altri due invece lo scorso venerdì si è svolta l'udienza di fronte alla Corte d'Appello di Firenze. I giudici si sono riservati.